Ciao a tutti ragazzoli, come va? Spero tutto bene. Oggi siamo in un nuovissimo video ASMR con il mio amico su Fortnite. Sarà una nuovissima serie che porterò sul canale. Ovviamente sto utilizzando il plug-in come state sentendo. Allora, innanzitutto, qua su Fortnite faremo partite normali in coppia. O alcune volte le faremo anche in terzetto quando ci sarà qualcun'altro, ovviamente. Innanzitutto, Alpe, cosa ne pensite al ASMR? No, no, no. Perfetto. Prima di iniziare col video ragazzoli, ovviamente, buona vigilia e buon Natale a tutti voi, visto che siamo già a quel tempo, ovviamente, cioè siamo già a quei giorni. E niente, io direi di iniziare con la coppia. Via. Ok, ragazzi, adesso siamo in gioco. Come vedete, io sto utilizzando Pappa Natale, visto che siamo a tema Natalizio. Allora, andiamo verso il razzo che ha messo proprio in questo punto, come vedete. Questo razzo mi fa molto ricordare una Season, che è infatti la Season 4. Che non ci ho giocato, però ci ho giocato pochissimo quella Season, insomma, comunque, mi ricordo di questo razzo qua. E adesso andiamo proprio a vederlo, che è da tipo tre anni che non lo vedo. Intanto, ragazzi, mi raccomando, se siete imitricati di una cosa, iscriversi, lasciate like, mi raccomando, arriviamo a 15 like per un prossimo video. Esatto. E attivate la campanellina per ricevere tutte le notifiche, mi raccomando. E fa tempo un po' di rumore del controller. Lo faccio. Intanto che scendiamo. Oh mio Dio. Madonna. No, vabbè, ma che ricordi? Intanto, siamo già pronti. Oh mio Dio, che figata. Qua gli occhi piangeranno sicuramente. Ok, allora, dobbiamo prenderci subito un'arma, ragazzi. Ecco, con un forziere. Perfetto. Allora, ragazzi, innanzitutto, nei commenti voglio sapere cosa ne pensate di questo, di questa season, come ve la state passando, vi sta piacendo. Sicuramente con questi ragazzi che avremo in partita e avremo in tutta la mappa, è... Sicuramente apparirà un evento bellissimo, sicuramente. Come quello della season X. Se sentite rumore, da tutte, cioè da esterno, ovviamente, scusate. E tu spari. Ok, arrivo subito. Shhh, è un abettino. Oh, ci sono. Perfetto. Ma non è il tipo della taglia. Oh, aspetta, ho sentito al disbarco. Ok, è proprio davanti a noi, a 40 metri, è nell'acqua. Provo a spararli. Ho fatto 19. 19, 19, 19, 19. Prima kill fatta della partita. ovviamente io ragazzi non sono un player che va a trajardare in arena ci sono un altro perfetto io comunque ragazzi non sono quel genere di player che va in arena a trajardare e va a fare i punti io diciamo che sono una persona che è più attiva per la storyline di Fortnite quindi diciamo che mi diverto molto allora mi raccomando scoli facciamo una sfida si se questo video arriva a 30 like facciamo arena in duo perfetto va benissimo va benissimo intanto è morto un tipo ma non l'ho ucciso io poi ragazzi il volume non dovrebbe essere molto alto quindi non dovrebbe dare fastidio ecco ragazzi adesso nella mappa visto che siamo in periodo natalizio hanno giunto Pappo Natale che è la skin che sto utilizzando io che va in giro col camion e poi abbiamo anche le sue amiche retne che vanno in giro con i quad come vedete loro vi guardano un attimo poi vi lanciano le caramelle grazie 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 loro vi fanno comunque la loro remote e vi salutano ben chiaro vi dice poi ovviamente quando andate su quad avete le muschette di Anna lì sottofondo oh c'è un deltaplan in aria eccolo lì ok scendo 3,4 un secondo ok ok che c'è? non lo chiede di sparare 19 ucciso grande amico c'è l'altro amico ok 22 bianco tolto scoffe dove? qui 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 basti 9 ucciso ok oddio è duro è duro non è duro lì ucciso ucciso ok prendo questo mi serve anche un po' no aspetta ah aspetta questo qua c'è quello blu selfie è a me però ok aspetta che ti ho voluto ok bestia ok perfetto vengo a vengo ragazzi perfetto bene prendo su questo io ok ragazzi abbiamo fatto delle kill easy qua quindi a posto direi di prendere il quattro e volare io sono qua ah scusa arrivo arrivo ok vediamo se riusciremo a fare il fullo è morto un animale let's go vediamo se riesco a fare il fullo della no niente sti quattro ormai sono sempre più paccati del solito paccati vabbè noi ci accontentiamo si 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 ci ho fatto ci ho fatto ok andiamo andiamo si la logica qua la logica è andata un po' a cagare però ok va bene allora vediamo se riesco di nuovo let's go let's go let's go aiuto siamo in pazienza salvi 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 e salvi esatto capisci abbiamo bisogno di cose in più però va bene perfetto andiamo un po' più lontani così almeno ok aspetta sfermo qui ok non schifo si scendiamo no mi hai costruito davanti scusa vinto uno niente ho vinto un po' zionio lo becco no ho fatto tosso col pompa ho vinto i materiali F ma non ci sono perfetto occhio cavolo mi ha ucciso ah è becchissimo 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 oh è pieno ci sono i tipi in fondo perfetto va va qua regalo vabbè livello 115 ok capo perché c'è un forze rincastrato vabbè eh perché l'ho perché l'ho aspetta mi serve pompa dov'è il pompa scusa faccio mi serve per me oh spiderman 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 è bianco 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 niente da fare è bianco e scappa via però maledetto pt5 let's go grande oh guarda quanto loot aspetta è mitica no non è mitica non è mitica prendo io questa ok ok prendere il suo medaglietta quella eduardi spari ok si lo sento anch'io mi muovo con spiderman ok fossi l'autovati dov'è tutto dritto tutto dritto va bene non riesco se ok ah è vero qua c'è mio loot perfetto grande là 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 perfetto let's go mamma mia che combo signori mamma mia le combo per il mondo meno male erano meno male erano fermi se no esatto avevano gli scudi avevano gli scudi eh no zero porca mista no non è questo qua qualcun altro però aspetta mamma mia mamma mia dov'era 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 era qui dal bambuio che cecchinata mamma mia a posto ok non c'è più nessuno ok ok li vedo li vedo dov'atti dov'atti no stai fermo 26 25 25 ok si è vicino no niente 100 no tutto solo parca 3 ma ma ha preso no cazzo niente peccato peccato è una bella partita passiamo alla prossima partita ok ragazzi ora siamo in un'altra partita l'altra è andata un po' di cacca però vabbè allora abbiamo una missione da fare potremo andare qui se vuoi ah no ok è più vicino agli avversari perfetto per non rischiare di morire subito se no dopo il video farà schifo ok onesto allora abbiamo anche le missioni quelle normali esatto allora più facili ok se le faccio entrambi forse 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 ok altri umori nel frattempo ok scendiamo ok ci sono già dei tipi che stanno andando verso l'albero di natale mazza ok ok che stanno andando verso l'albero stanno facendo la missione pure loro mazza no vogliono fare la missione porca bestia ok io sono scelta cosa che si doveva fare aspetta aspetta vengo vengo con te quanti forse ci sono due che abbiamo forse del vicino all'albero ah ok posto a posto missione più semplice di così sento passi sento passi che spavento se vabbè buona distrutto scolli essami aiutami ok vai 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 aveva la corona questo si perfetto minchia ah l'ho trovato qua dentro ok facciamo qua un po' mio un momento un momento faccio così prendo questa pozione tipo minchia anche un bot un bot distrutto l'ho verino aspetta aveva la corona sto qui cazzo la corona tipo 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 ma dov'è minchia minchia cazzo è robito è morto 105 18 mamma mia è morto double double let's go vabbè no 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 minchia no lo fincio tutto in movizioni anche io niente perda mi sono fatta però dai e passiamo alla terza partita ok ragazzi ora siamo nella terza partita ed ultima allora io questa volta direi di andare verso visto che devo fare anche la missione verso bobina perfetto vuoi via guarda tocca a me ok ho già un tipo in parte me l'ha giociso mi lascò bella partita questa mi è piaciuta se mi è piaciuta lascia ok eccolo là preso let's go legge minato la madonna abbiamo altra gente eccolo là che si è appena curato visto ok bisogna raccogliere metallo yes poi qualche struttura nel frattempo gli sta sparando ucciso madonna che bomba ok c'è gente qui dentro che si sta curando momento non ok ok misi pari misi pari misi pari mi è piaciuta mi è piaciuta ok ecco Sparco! 24 cent barre! Morco! No Morco! Nice game, GG, bro! Good game, good game! Non è un progetto pecaminosa, non è vero? Ho il camera! ma sono tutti i vostri capelli ma sono tutti i vostri capelli ma sono tutti i vostri capelli va da safe ok vici cazzo la 6 sta divanto perfetto siamo in aria accogliamo a metallo vai ok ok non è un po' non è un po' un po' Grazie a tutti. 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 No, c'era il tipo davanti a me, papagno. Niente, sfiga. È stata una sfiga qua. Potrò fare niente. Ok, torniamo l'oppo e concludo il video. Ok ragazzuoli, il video può finire qui, ringrazio Albert per aver partecipato a questo video e al prossimo video raggiungimento di 10 like vi avevamo detto, no, 15 like vi avevamo detto. Quindi ci like il prossimo video game play su Fortnite, poi ovviamente sotto i commenti ditemi se volete qualche altro gameplay su qualche altro gioco, io ve lo porto sicuramente. E niente, e niente, e niente, e niente, e niente, e niente, anche a 20 like se arriviamo faremo arena ASMR, sarà impossibile però ci proveremo. E quindi niente, lasciate tanti mi piace, condividete il video e soprattutto iscrivetevi e attivate la campanellina. E niente, e niente, da vostro papo natale di fiducia, e anzi, da vostro scrolling di fiducia, vi saluto e noi ci vedremo in un prossimissimo video ASMR. Bella ragazzi.